Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app! Mentre Renness in dormitorio si lecca le ferite, in cortile le brigate sono alle prese con la preparazione dei piatti. Spero che venga buono dopo tutta sta fatica. Ci mancherebbe ancora, non lo so. Ci sono i pezzi di cioccolato che non si sono... No, raga, è una schifezza, te lo dico io. Non capisco niente. Vado. Più veloce, più veloce. Non l'olio. Ma non posso prendere una forchetta? Scusi, posso? Con una forchetta è meglio, più o meno. Sì, esatto. Non mi sento tutti i capelli, non mi posso. Non è con una forchetta, non è meglio. Vada, vada, vada. Anche con la forchetta. Prostare vigorosamente. Prostare vigorosamente che va più fuori che adesso. Prostare vigorosamente. Senta, lei non insegna a me cosa devo fare. Però si può fare ancora qualche... Abrucia, stia zitta e faccia quello che le sto dicendo. Si può fare... Non rida, non rida. Scusi. Eh, c'è meno, questo è troppo grande. Se lei mescola così, rischia di far impazzire la maionese. Eh, io impazzisco però se continuo così. Lei deve andare avanti così. Ah, che muscoli, ti fai un profus, ti fai gli avambracci. Cioè, non tutti cose buone, noi abbiamo la schifiazza più grande. O per i pani. Cioè, ma guarda cosa hanno loro, biscotti, cioccolato, noi questa c***a qui dobbiamo fare. Boh, vabbè. Che schifo, però io non la voglio toccare. Sembra proprio cacca. Beh. Eh, ma tu non... Mi assaggio. Non ci riesco, fallo tu questo, non è che posso fare tutto io. Angius è un po' sfadigata. Cioè, dà del suo impegno, però si stanca facilmente. È tutta pulire dei fifi. Signorina Angius. Sì, sono riposato un attimo. No, lei non deve riposare, lei è un cuoco. Si alzi, si alzi. È un lavoro di sacrificio. Non ho già fatto tutte quei cose. Odde, glielo ripeto per l'ultima volta. Si alzi. Eh, adesso mi alzo. Si alzi. Si alzi! Si alzi. Si alzi. Si alzi. Elisa. Signorina Angius. Eh, mi sono alzata adesso. Non mi costringa a prendere dei provvedimenti contro di lei. La signorina Angius finalmente ha deciso di alzarsi e rimettere le mani in pasta. Ignara, però, della sospensione del suo diletto Gabriel. Grazie. 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 Grazie.